E salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Passioni, l'ennesimo episodio di Passioni, il podcast o comunque il video podcast dove si parla di tutte le passioni che poi racchiudono quello che poi è il web italiano. Oggi siamo insieme a due persone che hanno raggiunto da poco un importantissimo traguardo proprio grazie alla loro passione, il traguardo dei 100.000 iscritti, grazie ai loro bellissimi blog sui viaggi. Siamo insieme a Giorgio e Martina, ciao ragazzi. Ciao, 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 eccoci. Meno male, 100.000 ce l'abbiamo fatta. Come state? Bene, bene, dai, tutto bene. Siamo ancora pieni dal pranzo natalizio, però recupereremo. Riusciremo a digerire. Non ci mettiamo a parlare del vostro pranzo di Natale perché sennò probabilmente l'episodio durerebbe forse fin troppo, però iniziamo come iniziamo fondamentalmente sempre, qui all'interno di Passioni. Non vi presento io, ma vi presentate voi. Parlateci di voi, chi siete, cosa fate, perché lo fate, da quando lo fate. Vai. Allora, noi abbiamo iniziato, abbiamo aperto il canale YouTube nel 2013, subito dopo la laurea in architettura. Ci siamo laureati insieme, però da lì avevamo già deciso che forse non ci piaceva tanto fare gli architetti. e abbiamo iniziato appunto a raccontare un po' i nostri viaggi con lo scopo di dare informazioni riguardante le mete che avevamo visto, quindi dando informazioni molto pratiche su musei, gli orari d'apertura, questo genere di cose, dove andare a dormire, tutto basato sulla nostra esperienza ovviamente. A ottobre 2013 siamo partiti per l'Australia per fare lì un anno e da lì la cosa è un po' cambiata perché abbiamo iniziato a fare effettivamente vlog, quindi raccontando come una sorta di video diario il nostro viaggio in Australia. Sempre comunque dando tutte le informazioni possibili che ci potevano venire in mente per aiutare altri viaggiatori che volessero seguire le nostre orme. E poi piano piano quello è diventato il nostro lavoro, quindi praticamente oggi siamo promotori del turismo e appunto lavoriamo semplicemente viaggiando, facendo video, facendo foto e poi condividendo le nostre esperienze, dando tutti i consigli utili a chi vuole ripetere quello stesso viaggio. E visto che ci siamo a questo punto, spammatevi tranquillamente. Dove vi possiamo trovare? A che nome? Diciamo che se cercate In Viaggio col Tubo ci trovate praticamente dappertutto, oltre che su YouTube e Instagram, anche TikTok, per chi volesse Facebook. Abbiamo anche un sito web dove in realtà raccogliamo un po' tutti quelli che i nostri viaggi, che non è super aggiornato perché facciamo fatica a tenere sempre tutto aggiornato, però In Viaggio col Tubo funziona dappertutto. Qual è stato, diciamo, il vostro primo, possiamo dire, appuntamento con questa bellissima passione del viaggiare? Qual è stato il vostro primo viaggio? Sono curioso di questa cosa. Il nostro primo viaggio insieme è stata una fuga romantica a Firenze, letteralmente una notte fuori, dove tra l'altro io ero ancora minorenne e ho dovuto chiamare mia mamma per chiedere il permesso per stare in hotel, perché l'hotel non mi faceva per nottare lì, altrimenti è stato super imbarazzante. Divertente perché io invece a Firenze c'ero ieri, perché io sono toscano, quindi insomma è divertente che si siano uniti un po' gli astri. Ieri ero a Firenze ed oggi parlo con delle persone conosciute sul web perché il loro primo viaggio è stato a Firenze. Fantastico, bellissima questa cosa. Ma proprio parlando di web, cosa vi ha spinto poi a parlarne ad un pubblico comunque disconosciuti? Possiamo dire che quando ci si mette sul web alla fine si parla inizialmente con degli sconosciuti che poi dopo diventano magari conoscenti, amici e quant'altro. Sì, letteralmente si parla in realtà con nessuno, perché all'inizio nessuno ascolta. Parli con te stesso, è un flusso di coscienza, no, appunto semplicemente noi volevamo dare delle informazioni di prima mano, quindi parlare di cose che noi in prima persona avevamo fatto veramente, questo perché all'epoca quando cercavamo informazioni sulle mete che volevamo visitare a volte capitavamo su dei blog che erano chiaramente scritti appunto da magari delle notizie stampa, delle cartelle stampa, cose che praticamente si capiva che le persone non c'erano state e anche su alcune guide proprio stampate, scritte anche molto famose, si capiva che c'erano proprio delle discrepanze anche a livelli paesaggistici, quindi non è che dici ok sono cambiati gli orari del museo, no no, c'erano proprio delle discrepanze grosse e noi invece volevamo appunto dare informazioni che fossero proprio state derivanti dalla nostra esperienza e soprattutto far vedere i posti perché magari appunto tu puoi parlare di un posto che ti è piaciuto tantissimo perché a te è emozionato tantissimo e quindi tu trasmetti tutta questa tua passione e le persone che leggono ricevono questa passione e poi vanno nel posto e fa un po' schifo per loro magari perché non abbiamo tutti gli stessi gusti, quindi io ti posso parlare di una cosa che a me piace tantissimo, te la faccio vedere, a te non piace o viceversa ti dico guarda questa cosa a me non è piaciuta però te la faccio vedere perché magari a te piace. Tra l'altro non so se mi hai spiato le domande però di gusti bisogna parlarne ovviamente quando si parla di tantissimi luoghi quindi insomma ve lo potevate dire ragazzi, ho fatto tutto un preambolo per le domande e poi le avete già lette, vabbè lasciamo perdere. Ma qual è stato diciamo il vostro approccio possiamo dire anche ad un mondo diverso da quello che può essere quello della casa comunque del posto diciamo natale o comunque dei vostri luoghi di infanzia, il vostro primo approccio con il diverso qual è stato? Vi ha incuriosito, vi ha spaventato, vi ha suscitato emozioni? Beh secondo me il nostro primo approccio con il diverso, molto diverso è stato sicuramente in Australia, più che altro perché abbiamo vissuto lì un anno e abbiamo avuto modo di girare per tutto il paese, un paese vastissimo e diversissimo da quello che siamo abituati noi a vivere e vedere e lì è stato ancora oggi quello che noi riteniamo il viaggio più bello che abbiamo mai fatto perché comunque al di là del fatto che siamo stati un anno abbiamo proprio fatto un'esperienza di vita visitando posti fenomenali dai deserti rossi ai canyon nei quali ci ci arrampicavamo per poter fare questi trail insomma è stato è stato veramente pazzesco i laghi rosa quindi per noi la meraviglia è stata... curiosità all'inizio e poi meraviglia soprattutto in Australia appunto eravamo sempre assolutamente meravigliati da quello che vedevamo ed è una cosa che fortunatamente continua a ripetersi ancora in tanti viaggi che facciamo. Sì, diciamo che la meraviglia è un po' il nostro fil rouge tra virgolette nel cercare destinazioni, cercare mete, vogliamo meravigliarci, vogliamo scoprire... che poi penso sia proprio quello, no? Poi alla fine il segreto del viaggiare proprio sentirsi come catapultati in una nuova vita, almeno io quando io adoro viaggiare e per questo dico già che questa è una delle mie puntate preferite da prima di farla perché volevo appunto parlarne con qualcuno che poi ne ha fatto effettivamente il suo lavoro. Io ricerco proprio questo, è come tipo come se evadessi da una vita di tutti i giorni e quindi meravigliarmi anche dell'ordinarietà nella nella giornata è un qualcosa che io apprezzo veramente tanto. La domanda che dovevo fare era qual è il posto più bello che avete visitato però ovviamente Giorgio mi ha anticipato dicendomi che il suo preferito è l'Australia, anche per te Martina è l'Australia. Sì diciamo che più che il posto quello è il viaggio più bello che abbiamo fatto ma appunto perché è stato lunghissimo e quindi di posti ne abbiamo visti tantissimi però appunto di posti belli ne abbiamo visti veramente 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 tanti e non sappiamo mai scegliere esattamente il posto più bello. Cambia anche un po' rispetto alla stagione tipo di solito d'estate parliamo più dell'Islanda, d'inverno parliamo più della Polinesia francese perché appunto desideriamo caldo, freddo sai. Vi faccio questa quest'altra domanda che poi riprende anche in qualche modo quello che poi è la conoscenza di vari luoghi nel mondo. Ovviamente quando poi si gira il mondo non si ha a che fare soltanto con l'aspetto ambientale ma anche con quello culturale che secondo me poi è una delle ricchezze maggiori che abbiamo. Qual è diciamo la cultura che poi vi ha più interessato prima e stupito dopo? Allora un impatto sicuramente molto forte che abbiamo avuto con una cultura in senso sempre positivo è stato con la cultura appunto polinesiana perché quando siamo stati in polinese francese abbiamo conosciuto le persone del posto inizialmente che erano questo specialmente questo ragazzo che ci ha accompagnato a fare un'escursione all'interno nell'entroterra di Tahiti che però poi ci ha proprio voluto mostrare altre sfaccettature della cultura quindi ci ha portato nel dietro le quinte di un festival di danze tradizionali ci ha fatto vedere come preparavano i costumi perché molti sono preparati proprio con con le foglie degli alberi che loro vanno a raccogliere proprio un processo molto manuale sì e che devi fare la notte prima perché altrimenti poi i costumi si rovinano quindi un casino e appunto ci è piaciuta molto questa questa voglia proprio di coinvolgerci anche in aspetti della vita che per loro erano molto quotidiani per noi chiaramente come per qualsiasi altro per per qualsiasi persona che vai a vedere dall'altra parte del mondo anche una cosa quotidiana per te può essere strana e appunto questa proprio ok sei sei il benvenuto ti voglio far vedere questa cosa perché io sono veramente orgogliosa della mia cultura e voglio che tu riesca a conoscerne il più possibile e visto che stai facendo un video youtube voglio che dirti tutto in modo che tu riesci a trasmettere il più possibile di quanto sia ricca e bella la nostra cultura è stato anche stato anche molto bello poter fare il nostro primo matrimonio che è una cosa che da proprio dal viaggio in polinesia francese abbiamo iniziato un po ricercare durante i nostri viaggi ovviamente quando è possibile farlo anche per cercare aspetti della cultura che generalmente non vengono raccontati quindi da questo festival di danze che ovviamente è famoso in tutto il mondo però il come i gruppi si preparano è stata già una cosa un po più di nicchia il potersi sposare con un rito tradizionale locale ovviamente fatto per i turisti però questa è un'altra possibilità che abbiamo avuto e che da allora abbiamo detto molto interessante questa cosa in realtà abbiamo scoperto che lo fanno in tante parti del mondo perché appunto è una cosa che le persone vogliono condividere in generale ci piace quando le persone vogliono condividere la loro cultura vogliono fartela conoscere vero molto molto bello la prossima domanda poi riprende anche un pochino quello che poi avete sicuramente detto anche adesso però si vive anche molto di ricordi conoscere persone nel vostro caso appunto avere anche un rito di una determinata di un determinato luogo del mondo che vi ha accompagnato da quel momento fino ad oggi e vi accompagnerà in futuro il vostro ricordo diciamo più bello legato ai viaggi è proprio questo diciamo il rito che avete portato a termine è sicuramente uno dei più belli sicuramente sì non so diciamo non saprei fare una classifica non saprei dire qual è il più bello perché ad esempio quando abbiamo fatto il matrimonio in Madagascar quello diciamo è stato forse un po' più forte proprio per come poi ci hanno raccontato fosse nella realtà questo rito quindi un rito animista dove diciamo noi non ci uniamo solo in matrimonio per la vita ma anche dopo la vita quindi è qualcosa che va anche oltre il nostro corpo terreno quindi forse quello ha avuto un po' più di significato nel grande schema delle cose e quindi forse è stato quello un po' più emozionante però sì tante cose abbiamo fatto che ci hanno veramente emozionato per esempio di nuovo in australia la prima volta che abbiamo visto le balene quando abbiamo nuotato con gli squali balena in generale quando magari vedi determinati paesaggi o incontri determinati animali poi appunto noi facciamo tutti i generi di viaggi ma di solito quelli che ci emozionano di più riguardano la natura e i paesaggi Namibia è stato uno di quei viaggi invece dove proprio paesaggisticamente ci siamo molto molto emozionati un momento è stato ad esempio su Sandwich Harbor che è praticamente questa questa zona dove le dune del deserto entrano direttamente nell'oceano ed è un paesaggio veramente super impressionante ma sempre di nuovo in Namibia che è stato appunto quest'anno quindi è fresco fresco praticamente abbiamo attraversato dei paesaggi che appunto erano paesaggi non lo so erano delle piane semplicemente ma avevano tutta quest'erba un po' fluffosa d'argento che quando il sole si abbassava brillava tantissimo era stupendo e già vedendola così ci siamo emozionati tantissimo perché appunto è un paesaggio molto bello e poi ci hanno detto che in realtà quell'erba è molto rara da vedere perché è una cosa normale tra virgolette ma che capita ogni 7, 8, 10 anni che le pianure si riempano così di quell'erba e quindi veramente a quel punto ci siamo emozionati ancora di più perché abbiamo cioè ci siamo sentiti speciali nell'avere avuto la possibilità data dal caso di aver visto quello spettacolo sentite un po' quando si parla anche un po' dell'essere umano l'essere umano ha sempre voluto parlando un po' di grandi schemi ha sempre voluto esplorare ci ha sempre avuto questa pista dell'andare oltre i propri confini possiamo dire tra l'altro per fortuna talvolta anche per scoprire nuovi mondi e nuove prelibatezze possiamo dire del mondo a livello naturale o paesaggistico che sia secondo voi questa voglia di viaggiare che poi possiamo dire che in tantissimi abbiamo è proprio insita nell'essere umano non so se è insita in ogni essere umano però secondo me in tanti sì perché comunque la voglia di scoprire cose nuove un po' ce l'abbiamo tutti sì esatto chi più chi meno però io credo che appunto la cosa bella è avere comunque degli stimoli che ti possano dire ok questa cosa è diversa è diversa in che modo e c'è chi ovviamente innalza barriere verso il diverso c'è chi invece come noi non vedo l'ora di scoprire ok ma è diversa come in quale modo può relazionarsi con me come funziona sì 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 quindi chi più chi meno comunque abbiamo questa questo radar attento a percepire quello che è il diverso e poi ognuno lo cioè come agisce di conseguenza ecco cos'è che lascia poi realmente un viaggio emozioni ditemi voi cos'è la cosa che poi vi ha lasciato di più diciamo la vostra esperienza nel mondo allora sicuramente conoscenza perché chiaramente tu quando fai un viaggio vieni a conoscere tante cose che prima non conoscevi che riguardano appunto sia la cultura la storia la natura ovviamente sono anche tutte cose che puoi imparare anche senza viaggiare sono cose che impari e nel frattempo ti emozionano in un modo diverso rispetto che leggerle sui libri sì direi che appunto la conoscenza mista l'emozione è una cosa che fa veramente la differenza ma poi soprattutto l'emozione almeno è quello che noi ricordiamo più vividamente dei viaggi più che le nozioni in sé sono proprio le emozioni che che ci hanno fatto provare appunto determinate esperienze più che altro perché proprio viaggiare appunto come dicevi tu tu puoi leggere di una cosa su un libro è perfetto puoi puoi impararla stare lì in quel posto hai tutti e cinque i sensi che si attivano e che di conseguenza ti fanno percepire la vera essenza cioè l'essere lì di conseguenza io posso raccontarti di quanto un paesaggio namibiano può essere alieno strano fantastico però essere lì con il sole a 40 gradi che ti picchia sulla testa la sabbia che scotta il vento cioè è ovviamente qualcosa che non può essere comparato e sono poi le cose che ti rimangono dentro ma anche nozioni storiche per esempio ok leggi di un castello leggi di una storia però poi vai e ok lo vedi e quel castello comunque ti trasmette qualcosa anche in base alla sua storia ovviamente diciamo più o meno quasi tutte le cose insomma fino a quando poi non si toccano con mano non si vedono con occhi le cose anche a seconda poi delle proprie esperienze personali come si arriva lì si ha sempre una percezione differente però insomma se c'è una cosa che ho imparato è che prima o poi in Namibia ci deve andare perché ne vale assolutissimamente la pena sì soprattutto oltre che per i paesaggi anche per soprattutto se tu stai studiando da veterinario per il discorso safari in Namibia comunque molto molto bello anche in Sudafrica devo essere onesto Sudafrica ci siamo particolarmente appassionati perché comunque i viaggi safari ci piacciono un sacco diciamo che proprio l'emozione di avere un leone che ti guarda negli occhi anche fosse per mezzo secondo è proprio impagabile io sarei sarei felicissimo perché sono i miei i miei animali preferiti ce li ho tatuati con eticamente ovunque quindi insomma altro segno a favore possiamo dire allora ragazzi vi faccio le ultime due domande in genere concludo con la domanda solita che alcuni miei fan ormai conoscono a memoria però quest'oggi è la penultima quindi ve la faccio adesso cosa è per voi una passione? allora una passione per me è qualcosa è un fuoco è come un fuoco che bisogna mantenere vivo e allo stesso tempo essere in grado di portarsi dietro nella vita da usare un po' anche come fiaccola come dire quindi qualcosa che va sicuramente alimentata ma che deve anche servire come ad alimentare te esatto in qualche modo sì 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 appunto sì assolutamente e questo fuoco secondo me è l'emozione che qualcosa ti dà che può essere qualsiasi cosa può essere il rapporto con una persona può essere appunto un hobby può essere uno sport può essere veramente qualsiasi cosa però è una cosa che ti deve emozionare che tu non vedi l'ora di fare questa è una passione adesso chiudiamo con una domanda che è arrivata da un vostro fan mi perdonerà se all'ascolto ma non ricordo bene il nome utente ho dimenticato di scrivermelo però insomma poi imparerete a conoscermi che io sono un po' molto preciso su alcune cose ma anche molto smemorato su altre e la domanda che vi fa poi un po' riprende anche questo discorso sulle passioni che avete appena concluso in maniera veramente ottima questo presente come passato presente e futuro mi è piaciuto chiede se trasformassi la mia passione in un lavoro probabilmente perderei la passione secondo voi è normale aggiungo io è sempre vero? non è sempre vero ma è un grosso rischio soprattutto perché appunto quando tu vivi nel nostro caso una passione un viaggio per una persona normale tra virgolette è una vacanza quindi è il tuo tempo libero dove tu puoi esprimere te stesso nella maniera in cui tu desideri puoi spendere il tempo come vuoi puoi fare esattamente quello che vuoi ovviamente quando diventa un lavoro la cosa ti dà tante possibilità in più perché a noi dà la possibilità di viaggiare in tantissimi posti che non potremmo vedere altrimenti perché ovviamente se hai un lavoro un po' più canonico e viaggi solo durante le tue vacanze puoi farne molto meno di viaggi quindi noi non avremmo potuto viaggiare così tanto se non fosse il nostro lavoro non avremmo avuto la possibilità di fotografare di riprendere alcuni posti per cui servono delle autorizzazioni magari non saremmo neanche venuti a conoscenza di determinati posti di determinate esperienze ma è vero che devi scendere a patti con tante altre cose che sono orari che non sono proprio canonici canonici mettiamola così o umani a volte richieste con cui devi fare i conti che possono a volte anche rovinare l'esperienza di viaggio e a noi è successo diverse volte che non siamo stati abbastanza presenti quando il cliente ha organizzato diciamo il viaggio per un motivo o per l'altro e questo ha poi rovinato la nostra esperienza di viaggio in un determinato posto non perché il posto fosse brutto o valesse meno di altri ma appunto perché non abbiamo avuto il modo di rendere al meglio quello che facciamo di solito quindi nel nostro caso è realizzare foto e video ci siamo sentiti frustrati perché non avevamo la possibilità di vivere al meglio i posti e quindi di mostrarli al meglio e questo ha rovinato molto la nostra esperienza in determinati posti questo non vuol dire che però la passione è abbandonata nel senso che dipende anche da quanto forte è la tua passione nel senso che diverse altre persone che magari hanno iniziato come noi a raccontare i propri viaggi quando c'è stata l'opportunità di farlo diventare un lavoro si sono detti non voglio rischiare che mi si rovini io non posso trattare il viaggio come un lavoro e semplicemente smetto di fare il travel vlogger oppure lo faccio con altre regole quindi sicuramente il rischio c'è sì il rischio c'è perché c'è quindi devi devi essere bravo anche a mediare a mettere dei paletti su cosa su cosa sei disposto a scendere a patti e cosa no è una cosa che magari si impara anche con l'esperienza perché comunque anche noi sicuramente deve essere una passione appunto deve essere qualcosa a cui tu veramente vuoi dedicare tanto tempo perché se diventa il tuo lavoro vuol dire che tu ci stai 12 ore al giorno almeno e quindi non deve essere una cosa che ti posso fare in fretta quindi se hai tante passioni diverse a cui vuoi dedicare a tutte del tempo quello può essere già un problema perché se una delle tue passioni vampirizza le altre allora sì che quella passione comincia a diventare poi un problema e tu cominci a vederla solo come un lavoro però per fortuna noi ancora non è successo noi ancora amiamo viaggiare e non vediamo l'ora di pianificare nuovi viaggi e poi di fare questi viaggi e spero non accada mai questa volta perché io ci campo con i vostri video quindi mi raccomando state buoni prossimo viaggio si può sapere? in realtà per la prima volta dopo quanti anni dopo tre anni credo facciamo un viaggio di piacere puro nel senso che andiamo in vacanza andiamo in vacanza e facciamo due notti a Parigi un tra virgolette un weekend romantico a Parigi solo io e Martina così senza storie senza non ci vedremo scherzo probabilmente ci vedremo probabilmente faremo anche storie perché poi appunto di quello si parla quando è la tua passione lo fai perché lo fai perché ti va perché ti piace e insomma direi che abbiamo affrontato veramente tantissimi argomenti anche quest'oggi siamo arrivati veramente a quasi mezz'ora di registrazione che poi per voi sarà meno perché tra i tagli e tutto ovviamente vedrete vedrete meno però vi assicuro che è stata veramente una chiacchierata bellissima cioè mi sono divertito un sacco a parlare con voi delle vostre esperienze motivo per cui vi siete meritati il mio spammino scherzo ragazzi però per chi volesse seguito ovviamente Giorgio e Martina direttamente dal link che vi lascio in descrizione ma soprattutto cari ragazzi grazie mille per aver accettato il mio invito e spero veramente di poter parlare con voi anche di persona un giorno magari per un bel viaggio di un bel viaggio insomma mi auguro veramente tanto e vi auguro assolutissimamente tanta fortuna grazie mille ragazzi grazie a te grazie mille grazie a tutti per aver ascoltato o guardato e se vuoi fare un viaggio safari puoi magari venire con noi perché quest'anno ne facciamo un paio dai sto attento allora sto molto attento ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale di Giorgio e Martina in viaggio col tubo non ve ne pentirete e se vi va lasciate anche un like e iscrivetevi al canale qui sul mio canale dove si parla appunto di passioni faccio uscire quattro video al mese indicativamente uno che appunto è l'episodio del podcast e gli altri tre sulle mie tre passioni cinema sport e arte a volte o comunque a volte anche alcuni diciamo viaggetti potrei buttarceli ma non voglio rubare assolutissimamente il lavoro ai cari colleghi del viaggio col tubo grazie mille ragazzi e noi ci vediamo ovviamente in un nuovissimo video ciao ah e iscrivetevi ovviamente andate anche su Spotify però vabbè questo vabbè se siete su Spotify andate su YouTube l'avete capito ciao ciao